Dunque il cinema, come si, si cinema, è stato inventato nel milles, milles, quanti ne abbiamo oggi? Io me lo ricordo benissimo perché ero in Francia in quel momento lì, è nato per via di una speculazione edilizia di due fratelli che erano molto amici della colonna sonora. Questi due fratelli si erano specializzati nella costruzione di, loro facevano come si, un demono degli appartamenti però monolocale, insomma loro facevano un locale ma grande, un salone, che poi riempivano di gente che stava lì. Allora anche per favorire il cliente che ha sempre ragione, i due fratelli pensavano di mettere una fotografia ma grande, proprio una bella fotografiona, proprio sulla parete del locale. Adesso tanto per intenderci, guarda non ti puoi sbagliare, entrando tu lo vedrai perché entri proprio, insomma di fronte all'entrata. Hanno messo lì questa fotografia e la cosa ha avuto successo però siccome la fotografia stava ferma, i due fratelli decisero di far muovere la gente con le conseguenze che potete immaginarvi. Tavoli rovesciati, contusi, scavalcamenti di campo, vicini che si lamentano. Allora cosa hanno detto, si sono detti i due fratelli, hanno pensato di far star ferma la gente e di cambiare la fotografia. La cosa ha avuto molto successo, tanto è vero che i cambiamenti di fotografia sono diventati sempre più vicini, fino a circa 24 fotogrammi al secondo. Beh guarda, il giorno dopo in questa sala che i clienti per comodità avevano chiamato cinema, hanno proiettato, sì hanno fatto Quovadis. O era pieno così, grande successo di pubblico, buona la critica, bellissimi costumi. Io sono l'ultimo arrivato nel cinema, spero di aver portato qualche cosina di nuovo, anche se il mio umorismo non è poi così lontano dai comici del passato. L'umorismo... L'umorismo... Come si fa a definire l'umorismo? L'umorismo è anche qualcosa di personale. Lo vedrete anche voi, no? Durante il film vedrete le diverse scelte degli autori, degli attori, dei registi. Le diverse situazioni, le battute, tutto per far ridere il pubblico, la mimica. E poi scusate, è inutile che adesso io mi stia a spiegare come è fatto il cinema. Siete venuti qua a vedere il film? Ecco siete qua, lo vedete a posto, no? Fuori i secondi! Buon divertimento! Vinca il migliore! Buon divertimento!